dopo la mia uscita in torrente dello scorso video ho deciso di dedicarmi un po di più la Dora cercando di prendere una grossa trota anche se sono anni che la Dora è un po' vuota di pesci oggi ho questo bellissimo tratto uno dei tratti che conosco meglio della Dora in cui ho preso più trote vediamo come va sarà due anni che non tocco una trota d'ora ed è un vero peccato perché è bellissimo che attacco odio una grossa che attacco che mi ha dato questa è un'altra big mamma mia ma cazzo faccio tirarla fuori è un'altra big questa che bella sono le belle trotte della Dora che bella sarà un chilo quasi due che bella ma pensa cosa sono queste sono proprio le trotte della Dora che spettacolo finalmente una trotta della Dora che bella è un'altra grossa che bellezza ma come lucida punti neri vai vai uno degli ultimi osperi della Dora mamma mia che velocità ooo oh finalmente una trotta finalmente che bellina che bella dopo tanto tempo un'altra bellissima trotta della Dora sono riuscito a prendere non enorme ma che bellezza argento che bellezza bellissimo vai piccola che bellezza grazie a tutti